Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Vi piacerebbe l'idea di utilizzare un chat GPT completamente open source sul vostro PC localmente e offline, quindi senza aver bisogno di una connessione internet? Vi piacerebbe poterlo utilizzare in modo anonimo senza registrarvi da nessuna parte? Ebbene, una soluzione del genere già esiste e si chiama GPT for All. Questa è la pagina GitHub di GPT for All, quindi trovate sorgenti, potete anche installarlo da sorgenti, oppure avete dei binari per Windows, Mac OS e Linux. Qua vedete in azione il cliente ufficiale che potete installare andando sul sito gptforall.io e come vedete abbiamo l'installer per Windows, l'installer per Mac OS e l'installer per Ubuntu, beh, per Linux in generale in realtà. Come qua specificato si tratta di un ecosistema gratis da utilizzare, open source, si può utilizzare localmente sul proprio PC senza connessione internet, è una soluzione privacy oriented e non richiede nemmeno la GPU, richiede solamente un processore abbastanza moderno. Nel mio caso, avendo hardware datato, come sapete, questa soluzione è alquanto lenta. Comunque ve la mostrerò mettendo in pausa ogni volta a posto di attendere la risposta data da GPT for All. Quello che vi mostrerò io non è il cliente ufficiale, ma piuttosto uno script Python scritto da me. Se siete un po' paranoici e volete evitare di scaricare un binario all'infuori dei repository ufficiali della vostra distro, questa soluzione probabilmente fa anche per voi. Comunque esistono diversi binding per Python e per altri linguaggi ed è chiaro che con un tuo proprio cliente puoi fare tutto quello che vuoi. Nel mio caso voglio integrarlo al 100% col sistema operativo e col terminale per potergli dire non solo scrivimi questo, ma anche fammi questo, cioè voglio impartirgli dei comandi. Va bene, cominciamo subito con la dimostrazione, facciamo partire lo script Python e ci dice che abbiamo diversi modelli a disposizione. Sceglierò il quarto, che è sicuramente buono, sarà un po' lento, ma tanto metterò in pausa ogni volta che ce ne sarà bisogno. Si tratta del modello Snoozy, è un file di circa 8 giga, se ricordo bene. Lo sta scaricando, quindi diamogli un attimo di tempo. Qua non metterò in pausa, possiamo aspettare tranquillamente. Ecco, lo ha caricato, quindi adesso io scriverò in inglese per andare sul sicuro e andiamo su qualcosa che fanno un po' tutti. Gli facciamo scrivere una poesia. Quindi scrivi una poesia su boh su linux di 50 parole. Va bene, ho premuto invio, quindi lui comincia a ragionare. Metto in pausa e ci vediamo dopo. C'è voluta un'eternità, ma ce l'ha fatta. Ed ecco qua abbiamo la nostra poesia su linux. Adesso, come vedete, ho diverse possibilità. Il mio script offre la possibilità di eseguire un comando, di salvare l'output su un file, oppure di eseguire eventualmente uno script. In questo caso direi di salvare questa poesia su un file e quindi mi chiederà di inserire il nome del file. Lo chiamo poesia.txt. Benissimo, il file poesia.txt è stato salvato. Magari controlliamo. Allora, vediamo. Ecco qua. Abbiamo la poesia sul file. Ok. Andiamo avanti. Proviamo se mi capisce. Se gli dico aggiungi aggiungi 10 parole aggiungi 10 parole. Vediamo se mi capisce. Va bene, metto in pausa e ci vediamo dopo. Abbiamo un risultato ma non vedo 10 parole in più. Ha capito comunque che doveva ripetere la poesia, cosa che ha fatto, ma non c'è traccia di ulteriori 10 parole. Va bene, vi ho fatto vedere che posso salvare l'output che è stato generato. In questo caso non lo faccio. Vado avanti con il tasto invio. E adesso vediamo di fare qualcosa di più interessante. Ad esempio, facciamo finta di non sapere il comando per vedere i file presenti in una directory, in una cartella. E allora scrivo linux command per mostrare per mostrare i file in una directory. Va bene, per mostrare i file. Penso che possa bastare. Metto in pausa e ci vediamo dopo. Nel frattempo ho cambiato modello nella speranza che sia un po' più veloce ma comunque abbiamo già il risultato. Avevo chiesto qual è il comando per mostrare dei file nella directory corrente e questo è quanto ci dice GPT for all. Adesso cercherò di eseguirlo direttamente da qua senza copiarlo ed incollarlo. A questo serve il mio script. Quindi premo E esatto mi dà la lista dei file. Non è esattamente il comando che mi aspettavo comunque funziona. Mi sarei aspettato un semplice LS invece avevamo come opzione L per il long format R per la ricorsività eccetera eccetera. Ma va bene così. Proviamo un altro esempio abbastanza semplice. sono su una distribuzione basata su Arch facciamo finta che non so come installare un pacchetto su Arch Linux e quindi scrivo il comando cerco il comando per installare non so ad esempio VLC su Arch Linux ok va bene metto di nuovo in pausa ci vediamo dopo ecco come risultato ho ottenuto ovviamente sudo pacman meno s VLC ho dato ordine di eseguire il comando e quindi voleva già scaricare il tutto compreso le dipendenze ho premuto no benissimo quello che non vi ho mostrato è la possibilità di salvare un file renderlo eseguibile e poi eseguirlo quindi stiamo parlando di uno script di uno script bash non ve lo faccio vedere per due motivi il primo motivo è che mi sono staccato di aspettare i tempi biblici dovuti al mio hardware datato e il secondo motivo è che su uno script può capitare che bisogna metterci un po' mano per cambiare qualcosa è difficile che uno script esca già bello e pronto ti aiuta molto questo GPT for all come anche chat GPT ma poi devi essere tu a controllare e modificare qualcosuccia va bene per chi ha hardware datato come me potete testare il tutto anche dal browser andando su chat punto lmsys punto org dovete scorrere in basso scegliere uno dei modelli disponibili come predefinito abbiamo vicuna 13b io vi ho fatto vedere snoozy scorrete ancora più in basso e cominciate a scrivere qualcosa io ho utilizzato l'inglese ma dovrebbe capire benissimo anche l'italiano e molte altre lingue adesso scriviamo qualcosa di più semplice ad esempio quando è nato Garibaldi andiamo su send e vedrete che il sistema è abbastanza veloce magari avessi un hardware in grado di essere così veloce Giuseppe Garibaldi uno dei più importanti eroi e leader politici del risorgimento italiano è nato il 4 luglio 1807 a Nice all'epoca parte del territorio francese va bene ok quindi vi faccio vedere qua che è possibile anche fare uno script fargli scrivere uno script gli dico scrivi uno script beige per scaricare un wallpaper uno sfondo random dal sito unsplash.com salvarlo nella home e settarlo come sfondo settarlo come sfondo con non lo so ad esempio fair ok vediamo il risultato ci metto anche qua un attimino ma sicuramente molto meglio del mio computer ecco che già è partito quindi per creare uno script beige che scarica un wallpaper random da unsplash.com eccetera eccetera allora abbiamo bisogno di unsplash trattino cli un'interfaccia da terminale per unsplash ok e quindi ci dice di dare sudo apt-gate install unsplash cli per le distribuzioni basate su debian o ubuntu poi di creare uno script dal nome setrandomwallpaper.sh e quindi questo è infine lo script va bene do per scontato che tutto funzioni mi sembra una risposta abbastanza pulita ma come detto un controllo non fa mai male va bene salto alle conclusioni allora direi che la tecnologia è già ad un livello niente male ovviamente c'è molto da migliorare e secondo me si migliorerà anche si ha anche la possibilità di partecipare allo sviluppo dando un voto alle risposte che vengono ottenute quindi se la risposta vi soddisfa mettete pollice in alto se la risposta non vi soddisfa mettete pollice in basso quindi la tecnologia si migliorerà sicuramente comunque io volevo mostrarvi che già oggi siamo ad un punto insomma per cui ci si può giocare e come vedete è possibile integrarlo al sistema operativo un'altra possibilità sarebbe anche fargli leggere i tuoi dati i tuoi documenti e quindi cambiare qualcosa ad esempio nei documenti insomma le possibilità sono molto interessanti e stiamo parlando di un software completamente open source che rispetta la tua privacy non ti richiede alcuna registrazione lo puoi utilizzare anche offline senza connessione internet quindi meglio di così non so cosa volere e niente questo è tutto per oggi spero che il video vi sia piaciuto ciao da Clarintux